12 ottobre Ariete La dissonanza dei luminari sole e luna vi inclinano ad una chiusura nei confronti di chi vi circonda. Il temperamento un po' dittatoriale avrà il sopravvento e vorrete prendervi la ragione in ogni questione. Siate più disponibili, l'impulsività spesso è controproducente. Toro L'amore torna a sorridervi, avrete un momento molto promettente per approfondire una storia sentimentale. Chi invece non è impegnato avrà ottime opportunità di incontri interessanti che possono svilupparsi positivamente. Gemelli Luna armonica e vitalità solare alta, la giornata vi vuole sintonizzati su percezioni produttive che favoriscono buone iniziative. Anche la mente sarà attiva e mobile. Il susseguirsi di pensieri e azioni vi solleverà un po' di stanchezza. Cancro Tonio vitale e umore piuttosto appannati oggi, le idee si fanno un po' confuse e sarete pervasi da una sensazione di incertezza che disturberà la vostra sensibilità. Potrete rivolgere l'attenzione al settore affettivo e sentimentale che si rivela favorito. Leone È il momento di tradurre i progetti in realtà concrete. Dovrete eliminare ciò che si rivela superfuo o dannoso e intraprendere una strada che stabilizzi o costruisca con metodo il vostro futuro. Saturno in aspetto positivo, pur limitando l'espansione a porta di scifrina e maturità. Vergine Un accumulo potente di pianeti si verifica nel vostro segno, offrendo a questo periodo connotati fuori dell'ordinario. Il percorso è agevolato e favorito. Dovrete sapere utilizzare le opportunità con consapevolezza, ma lanciandovi senza troppa diffidenza. Bilancia Giornata all'insegna del benessere emotivo e del buon umore. Saprete tenere testa ad eventuali novità, ritrovando anche la vostra capacità diplomatica e la vostra amabilità. Talvolta le circostanze della vita possono alterare gli atteggiamenti, ma fondamentalmente il vero io rimane immutato. Scorpione L'aspetto che in questo momento prevale nel vostro cielo è quello delle faccende sentimentali, per le quali subite una sorta di rinascita emotiva. Ammorbiditi nelle vostre esternazioni, troverete una sintonia col partner che da tempo mancava, oppure sarete circondati da manifestazioni di affetto. Sagittario Il transito di Saturno contraddistingue un periodo importante, nel quale sarà necessario qualche sforzo in più per superare gli ostacoli. Un cielo al momento disarmonico non aiuta a recuperare energie ed entusiasmi, ma trovate alternative per non abbattervi. Capricorno Qualche difficoltà nel settore inerente il lavoro potrebbe essere vissuto in maniera un po' emotiva, causando dubbi e incertezze. Non formulate giudizi sulla base di una sensazione, cercate di prendere le distanze e ragionare con obiettività. Acquario Luna e sole in buon aspetto porgono in flussi benefici alle vostre percezioni e al tono vitale, facendovi sentire di nuovo padroni della vostra vita. In un cielo astrale che va sempre più riscaldandosi, avrete modo di cambiare alcune vostre convinzioni. Pesci Il momento non si rivela molto propizio per appagare le vostre ambizioni, dovrete salire alcuni gradini e guadagnarvi la meta con i vostri sforzi. Non rinunciate comunque a progetti e sogni e cercate di pazientare lavorando con tenacia. Buone stelle